Scrive dei lati oscuri da chiarire nella vicenda che riguarda la realizzazione della Galleria Sant'Elia. Alessandro Pagano, deputato nazionale della Lega, ha interrogato la ministra De Micheli al question time sulla viabilità siciliana e soprattutto sulla Galleria Sant'Elia, monumentale opera necessaria per il raddoppio della 640. I lavori si sono fermati a causa di alcune infiltrazioni d'acqua e proprio su quelle si sofferma Pagano, elencando spese e quindi costi e tempo impiegato per i lavori che ancora dovranno essere ultimati. Sulla Galleria Sant'Elia, i cui lavori sono in ritardo da almeno 5 anni, iscrive il deputato della Lega, dopo una spesa di 80 milioni di euro non è stato attivato nessun intervento di rilievo ed è dal 2011 che con interrogazioni parlamentari sollevo dubbi a cui con Protervi Alanias continuano a rispondere e a dimostrare che molti lati di questa vicenda sono opachi. Pare sia a rischio la tenuta della struttura, secondo quando afferma lo stesso Pagano in una nota, resta così alta l'attenzione massima, la preoccupazione sulle infiltrazioni nella Galleria Sant'Elia, sulla Grigento Caltanissetta, continua il deputato gestita da Anas. Milioni di metri cubi d'acqua, scrive Pagano, e ben quattro faglie geologiche mettono a serio rischio, con danni irreparabili, la tenuta dell'infrastruttura. Ma arriva la risposta del ministro De Micheli che dice che nessun rischio per la Galleria. Ad oggi il contraente, scrive la De Micheli attraverso una nota inviata dall'ANSA, ha eseguito parte degli interventi previsti e, come riferito da Anas, non sussistono rischi per la struttura della Galleria. Il MIT ha avviato comunque procedure e controlli di verifica da parte della direzione preposta.